la maschera isolata che presento per il carnevale di viareggio 2022 si intitola we can do it è un omaggio alle streghe moderne che praticano un culto chiamato wicca da qui il gioco di parole ho deciso di rappresentare la strega più amata e conosciuta da grandi e piccini che sarebbe l'attrice maggie smith che interpreta minerva mcgranit in harry potter il culto della wicca è un culto collegato ai cicli naturali e alla conoscenza di se stessi quindi il messaggio che volevo trasmettere che dovremmo prendere esempio da appunto da questo dalla stregoneria moderna perché si è un po persa questo contatto con la natura al giorno d'oggi la mia maschera isolata si intitola rice rappresenta una fenice che risorge dalle sue ceneri e in questo periodo anche noi dobbiamo risorgere dalle nostre ceneri e brillare in cielo come fa lei questa fenice la dedico un po a tutte le persone che in questo periodo sono giù a terra e di non arrendersi mai e di risorgere come fa lei